Passiamo adesso alla cultura presentato ieri a Sassari per il Festival Entula, il primo romanzo della scrittrice e conduttrice Rai Serena Bortone. Vediamo il servizio di Emanuele Floris. Tratto da una storia vera, a te vicino così dolce, il primo romanzo della giornalista Serena Bortone, da lei presentato ieri all'ex mater insieme a Lorena Piras, nell'ambito del Festival Entula, un libro ispirato a una vicenda personale che ha segnato l'autrice. Mi ha insegnato a non giudicare, ad ascoltare, ad accogliere e anche a perdonare me stessa, forse per prima, e anche poi le persone che ho incontrato sul mio cammino. I sentimenti sono al centro dell'opera, tra amore, complicità e una vicenda di transizione, il tutto sullo sfondo degli anni Ottanta, epoca in cui i valori e percezioni erano molto diversi. C'è un incanto perduto che io cerco di raccontare, che deriva proprio dal fatto che tante cose non si sapevano e si scoprivano con l'ardore e con la confusione di chi le cose non le sa. Serena Bortone ha riflettuto con il volto pubblico su quanto la professione di giornalista e conduttrice Rai l'abbia aiutata nel processo di scrittura. Sicuramente l'attenzione ai dettagli, perché io amo guardare gli altri con empatia e con accoglienza e questo lo faccio sia quando parlo, faccio interviste in televisione, sia quando mi è capitato di scrivere e a maggior ragione quando ho deciso di buttare giù questo mio primo romanzo. Grazie. Grazie. Grazie.